Allora, tu e' di là? Fine della segrenata, l'ultima truffa, cattacuffa Lei entra in mezzo, quando il coro canta Parito, parito, parito Parito, parito Come ha fatto questo finale? Forte No, no, lo chiedo No, lo guarda con il continuamento, no Medio forte, eh? Medio Va bene, va Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto No, no, lo guarda con il nostro canale No, no, lo guarda con il nostro canale La vita do bim Approfittare solo il pedaile Bene C'è un po' i, eh? La vita do bim Vi farò un regatto Bene No, no, lo guarda con il nostro canale Non, no, lo guarda con il nostro canale Non, no, lo guarda con il nostro canale No, no, lo guarda con il nostro canale Come lo faccio? Lo puoi rallentare? Sei sicuro che lo puoi rallentare? No, 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 è ancora più duro se lo rallentiamo? No, 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 no E' meglio come? Se lo calentiamo così è più lungo. E' meglio fare il moralità. Ma è successo? Si, si. In questo dueto siamo stati molto legati noi. Abbiamo quasi piccoli. Non abbiamo bisogno di altre esperienze. Abbiamo già fatto tutte. Impravolta la voce a tutti. La voce a tutti. Ma anche la voce a tutti. Ma è successo? Come è successo? Ho, amato, tycker di che non le faccio. E poi, come è successo? Grazie a tutti.